eccoci eddy farias due partite 6 gol cosa come commenti questo inizio di campionato tu e della squadra anche anche oggi due grandi assist di gas barri come 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 ci approcciamo a questo doppio impegno nocciano giama della settimana prossima nocciano giama caldo abbiamo tre partite difficilissime ma è semplice approcciamo la voglia di vincere ma soprattutto con i cortici assolutamente allora un grosso in bocca al lupo a tutti e ringrazio lo sponsor Gianni Uola